Premessa doverosa vista l'importanza sociale, la fama che ha il personaggio di cui andiamo a parlare. Questo è un video che parla di Harry Potter, non è un video su Harry Potter. La differenza è sostanziale, cioè utilizziamo la metafora, il paragone con la saga di Harry Potter per sviluppare un altro concetto relativo al mondo della nostra pallacanestro. Questo lo dico per evitare di essere accusato di blasfemia qualora all'interno del video ci siano dei riferimenti imprecisi o in generale delle imprecisioni. Io non sono il massimo esperto al mondo di Harry Potter, sono un umile appassionato della saga della Rowling, quindi potrebbero esserci delle imprecisioni. Nel caso ci fossero, abbiate pietà di me. Nell'ultimo capitolo della saga di Harry Potter, Harry Potter e i doni della morte, la morte presenta per l'appunto tre doni che se la memoria non mi inganna sono la pietra della resurrezione, il mantello dell'invisibilità e la bacchetta di Sambuco. In tutto questo ho visto una analogia interessante con quello che potrebbe essere, perché al momento in cui registro questo video sabato 24 novembre non è ancora ufficiale, è molto probabile ma non ancora ufficiale, il passaggio di Stojanovic dall'Auxilium Torino alla Vanoli Cremona. Quali sono, diciamo, le analogie che vedo in questo passaggio? Innanzitutto la figura di Meo Sacchetti, che proprio come fa la morte all'interno del romanzo della Rowling potrebbe concedere a Stojanovic tre regali fondamentali per la crescita dello stesso Stojanovic. Al primo posto, il primo dono di Meo Sacchetti che potrebbe fare a Stojanovic, lo ripeto qualora venisse ufficializzato questo passaggio, che però sembra questioni di appunto ore se non minuti, il primo dono è assolutamente quello di una squadra, cioè la possibilità di giocare, possibilità che a Stojanovic è stata tolta nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, proprio da quella stessa Torino che in estate l'aveva firmato con un triennale. E qui ci vuole un piccolo inciso, una piccola digressione su Larry Brown. È difficile parlare di Larry Brown perché si parla di un'icona della pallacanestro, un allenatore che ha alle spalle oltre 40 anni di esperienza, ai massimi livelli assoluti, che ha come apice della propria carriera di allenatore, la vittoria dell'anello NBA nel 2004 con i Pistons dei gemelli Wallace. Per cui parliamo di un guru assoluto, che però paradossalmente all'interno del nostro contesto, del nostro campionato, è un esordiente e quindi delle volte fa proprio degli errori di inesperienza. sembra strano quando si parla di un quasi ottantenne che ha alle spalle tutto quello che ha alle spalle Larry Brown. Però è così, secondo me, nel caso di Stojanovic, quello che ha fatto è proprio un errore di inesperienza. Cioè, non concedergli neanche la possibilità di dimostrare sul campo di poter valere il progetto Torino, secondo me è un errore. La cosa ancora più particolare, che lo rende ancora più grave, secondo me, è il fatto che è difficile dire che Stojanovic non potrebbe in nessun caso far parte del progetto di Torino. Perché il progetto di Torino, a partire da Royce White, per poi svilupparsi con l'arrivo di Wilson, Victor Rudd, fino ora dalla Smur, è cambiato e ricambiato più e più volte in corso d'opera. Per cui è difficile credere che ci sia stato questo punto fermo, questo progetto inossidabile da parte della dirigenza e di Larry Brown. Si sta un po' cercando di salvare in corsa quello che ci si è resi conto essere un progetto con dei difetti importanti. Però di Torino parleremo magari in un altro video. Torniamo ai doni che Meo Sacchetti potrebbe fare a Stojanovic nel caso in cui passasse a Cremona. Al primo posto, appunto, una squadra, la possibilità di giocare. Al secondo posto, il fatto che questa squadra è la Vanoli-Cremona. Si parla di un contratto anche in questo caso pluriennale e quindi tornando alla metafora iniziale, la Vanoli-Cremona sarebbe per Stojanovic quello che Hogwarts è stato per Harry Potter, ossia una scuola all'interno della quale può imparare a gestire il suo enorme talento. Perché di talento Stojanovic ne ha e lo vedremo col terzo punto. Cremona potrebbe essere l'ambiente d'atto, la scuola all'interno della quale Stojanovic può sviluppare il controllo delle proprie capacità. E veniamo quindi al terzo dono di Meo Sacchetti che è un mentore, Travis Diner, nello specifico. Perché se Sacchetti all'interno della metafora è l'albus silente della situazione, Travis Diner è il Severus Piton, cioè il professore, il professore con la P maiuscola, l'anti-eroe, quello che si prende cura in qualche misura di Stojanovic, dello Stojanovic Harry Potter e che gli insegna i trucchi del mestiere. E qui veniamo al discorso sul talento. Perché Diner può essere il mentore di Stojanovic? Perché Stojanovic, proprio come Harry Potter, ha una caratteristica che lo rende unico, almeno alle nostre latitudini. Ossia quella di essere un playmaker all'interno del corpo di un'ala piccola. È la più classica delle point forward. Se questa cosa sta diventando, non dico comune, ma sempre più frequente, quantomeno in NBA, da noi è una rarità assoluta. Però Stojanovic è questo. Stojanovic è un giocatore che può pensare di chiudere diverse partite durante il corso della stagione nel nostro campionato in tripla-doppia di media. Perché ha il fisico per andare forte al rimbalzo, può concludere attaccando il canestro e soprattutto ha una straordinaria visione di gioco, un'intelligenza cestistica che gli permette di mettere in ritmo i compagni, fa girare la squadra. È il playmaker aggiunto. E per questo diventa così importante il Travis Diner che a fine carriera potrebbe davvero essere il punto di svolta nella carriera invece di Stojanovic. Perché può insegnargli tante cose. Può permettergli di sviluppare il proprio talento. E proprio di talento si parla, concludendo il discorso, in merito al passaggio di Stojanovic a Cremona. Perché se Meo Sacchetti a inizio anno ha detto che questa Vanoli, questa edizione della Vanoli ha sì meno talento rispetto ad altre squadre, rispetto anche ad altre edizioni della Vanoli, allo stesso tempo ha, sempre per parola di Meo Sacchetti, una unione, una coesione, una chimica di squadra che è pressoché perfetta. E se manca il talento, Stojanovic è il giocatore più adatto per andare a coprire questo ipotetico gap, questa mancanza di talento. Perché se Stojanovic è qualcosa, è un giocatore di talento. Poi gli manca il tiro, gli manca la percentuale, soprattutto al tiro, sia dalla lunetta, sia dal perimetro, diciamo. Gli manca la capacità di saper gestire il proprio ardore agonistico che a volte va al di sopra delle righe e lo porta a uscire mentalmente dalla partita. Ma il talento c'è e se riesce, grazie ai tre regali di Meo Sacchetti, ai tre doni di Meo, a sviluppare la concentrazione, il controllo, la capacità di gestirsi, veramente rappresenta il punto di svolta all'interno di questa stagione della Vanoli, ma anche delle prossime. È un momento fondamentale. Grazie a tutti.